Dopo i suggerimenti del grande Paolo, i K2 SAE, ecco il risultato, punti sul pollice, linee sull'indice, abbiamo avvicinato i puntali e le calamite, e cosa molto importante, sull'857, adesso non so se si vede il menu, andiamo a vedere, forse qua un po' si vede, il menu 25 è impostato su normal e non su reverse, e quindi un po' di esercizio per spostare i punti dalle linee col tasto. Effettivamente così piccolino il gioco è leggero, manipolazione meno affaticante, prenderci un po' la mano, però movimento minimo e soprattutto punti sul pollice, 73 da Italia Whiskey 2, Mike X-Ray Eco.